Seconda giornata del girone preliminare di Heineken Cup, gli aironi ospitano la zaffanella agli inglesi del Bata, aironi che recuperano alcune pedine almeno in panchina dalla infermeria tra cui Pratichetti e Favaro, Redolfini confermato pilone destro, Perugini a sinistra, i centri confermati, ancora l'inglese Penny secondo centro e Pavan a primo Canavosio dal primo minuto per la prima volta in questa stagione, De Ma viene confermato estremo. Dopo quattro minuti questo calcetto inglese viene recuperato proprio da Canavosio, il contrattacco degli aironi è pericoloso, Rubini all'ala si invola, questo calcetto avrebbe potuto essere ben più fortunato, purtroppo gli inglesi riescono a rifugiarsi in tush. Passiamo all'undicesimo, bella azione lineare dei tre quarti inglesi che assorbono i nostri due centri, all'ala si libera, De Ma si trova a metà strada, con la sua velocità non riesce a fermarlo e Biggs va a segnare la prima meta dell'incontro, il vantaggio per il Bata dopo 11 minuti per 5 a 0. Il centro degli inglesi Barkin non riuscirà a trasformare e sarà una giornata difficile per lui al piede. Gli eroi non mollano, costruiscono tanto, tanto, veramente tanto gioco ma fanno fatica a finalizzare negli ultimi 22 metri avversari, si stringono le maglie degli inglesi, faranno passare pochissimo per tutta la partita, qui Mercier riesce comunque a trasformare la punizione guadagnata dagli avanti degli aironi e accorcia le distanze, aironi 3, bat 5. Al ventiduesimo si riparte con questo tentativo di contrattacco degli aironi, però non si intendono De Ma e Rubini all'ala, gli inglesi allora premono, capiscono che il momento per gli aironi è difficile e spingono con gli avanti, cercano di penetrare ancora, vedete queste continue percussioni vicino al raggruppamento con gli avanti, gli aironi cercano di difendersi, sono vicini però alla linea di meta, non concedono granché spazi almeno fino a questo momento finché il mediano di mischia apre nuovamente alla chiusa e pesca l'ala Carraro, ala fisico possente che riesce a sfondare e a portare il pallone al di là della linea di meta, ancora un errore nella trasformazione appunto della meta, aironi 3, bat 10. Percussione di Williams da un raggruppamento, una bella ripartenza, ci ha abituato a queste cose ma ancora l'estremo inglese Abendanon che poi verrà votato man of the match dalla giuria, riesce a fermarlo proprio all'ultimo e gli inglesi si salvano, riconquistano il pallone, riescono a liberare, ancora una bella azione dei tre quarti inglesi, vedete l'estremo proprio che rompe il placcaggio di Mercier, riesce a aprire, guardate che belle mani gli inglesi ritornano all'interno, ritorna all'ovale proprio nelle mani del giovane estremo della formazione anglosassone che comodamente riesce a appoggiare il pallone al di là della linea in mezzo ai pali, non può sbagliare in questo caso la trasformazione e siamo a 3 a 17, sul finire di tempo la frazione si chiude con questo tentativo ancora degli inglesi, questo calcetto porta l'ala nell'ala di meta ma l'intervento indisperata di De Ma riesce ad evitare la segnatura, riparte il secondo tempo quindi con gli inglesi ampiamente in vantaggio, ironi però che cercano di ridurlo questo svantaggio, prendono in mano il pallino del gioco, vanno vicinissimi alla linea di meta con una serie di percussioni vicino alla mischia vicino al raggruppamento, ecco che ancora ci si prova stavolta ad aprire il pallone, Penny avrebbe un'autostrada davanti ma non si intende con Mercier, il passaggio non lo raggiunge e quindi l'occasione sfuma, ci riprovano, continuano, insistono soprattutto gli avanti guardate Williams ma da questo raggruppamento gli inglesi si difendono con un fallo che porta una punizione che Mercier trasforma in mezzo ai pali, siamo 6 a 17. Al sessantacinquesimo questo calcio di liberazione degli inglesi, guardate Tognolatti purtroppo recupera ma scivolando porta fuori l'ovale e dalla conseguente Tush vedete come si organizza il pack degli inglesi che riesce a organizzare un carrettino che i nostri avanti non riescono a disassare, gli otto uomini del BAT invece che guadagnano metri e se li faranno tutti e quindici o poco più da dove avevano lanciato la Tush, vedete che cercano lo spiraglio che alla fine trovano, è proprio il capitano che riesce a timbrare la meta, Watson al trentesimo del secondo tempo per la meta del 22 a 6 per il BAT, ancora una volta non trasformata. Gli aeroni comunque riescono a giocare la palla, vogliono giocare la palla, vogliono uscire a testa alta da questa sfida nonostante lo svantaggio grande, vedete proprio alla fine riescono ancora ad aver trovare le forze per cercare di risalire il campo dai propri 22, avete visto la bella corsa di De Marchi, qui l'ovale viene spostato in campo aperto, la palla arriva a Williams, tenta di sfondare, non ce la fa, cerca un riciclo che non viene pulito, raccoglie Rubini ma viene aggredito da due avversari e sulla fine di questa azione l'arbitro fischia la fine dell'incontro, aeroni 6, BAT 22, aeroni dunque nuova sconfitta, ultimo posto nel girone di Heineken Cup, Heineken Cup che tornerà in dicembre, gli aeroni, la nostra franchigia andrà a far visita ai francesi del Biarritz, prossimo impegno in ordine di tempo però è la Celtic League in trasferta contro i Dragons.